Gentili amici telespettatori ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione di CTS Notizia. Apriamo questa edizione del nostro OTG parlandovi di emergenza immigrazione. Sono 1149 gli immigrati soccorsi nelle ultime 48 ore dai mezzi del dispositivo Mare Nostrum nel canale di Sicilia. Intanto proseguono le fughe nei centri di accoglienza, infatti per questi disperati la Sicilia sarebbe solo terra di passaggio. Non si arresta l'ondata di sbarchi di immigrati sulle coste siciliane. Soltanto nelle ultime 48 ore, complice le condizioni favorevoli del mare, sono stati 1149 gli immigrati soccorsi dai mezzi del dispositivo Mare Nostrum nel canale di Sicilia. Alle operazioni ha preso parte anche la nave mercantile Red Sea e vi hanno partecipato la fregata Espero del pattugliatore Cassiopea, che nei giorni di Pasqua hanno condotto a Pozzallo 828 persone. Dal 18 ottobre 2013, giorno in cui è iniziata l'operazione militare e umanitaria Mare Nostrum, sono stati oltre 20.000 gli immigrati soccorsi dalla task force. Immigrati che comunque in Sicilia non vogliono restare. Questa è infatti per loro una terra di transito, il vero obiettivo è il nord Europa. Il sogno è infatti quello di raggiungere la Svezia, la Germania o la Francia. Per questo motivo evitano di farsi identificare e come da prassi, consolidata ormai da diversi mesi, fuggono dai centri di accoglienza per inseguire la meta finale del loro viaggio della speranza. È accaduto sabato dopo lo sbarco avvenuto a Pozzallo nel Ragusano, dove oltre 300 migranti, in maggioranza eritrei, sono fuggiti dall'ex centro di sperimentazione agricola della regione siciliana San Pietro, struttura tra Comiso e Ragusa allestita per far fronte all'emergenza sbarchi. I tre arrivi di sabato scorso hanno messo infatti sotto stress le strutture della provincia di Ragusa e si è reso necessario lo smistamento dei migranti in altri centri. Questo è lo stato di emergenza in cui si trova la macchina dell'accoglienza in provincia, hanno reso più difficili i controlli e dunque la gestione delle presenze. Essere iniziate proprio in queste ore ad Augusta le operazioni di sbarco dei migranti dalla nave Amfibia San Giorgio, giunta stamattina nel porto della città siciliana. Sulla nave della Marina Militare si trovano 321 cittadini extracomunitari soccorsi ieri nelle canali di Sicilia, tra cui 62 donne e 5 bambini. Torniamo a Palermo ancora per la cronaca. Attimi di paura questa mattina in via Saita Longhi dove i vigili del fuoco hanno salvato sette componenti di una famiglia intrappolati nella propria abitazione avvolta da un incendio. In genti i danni il rogo è divampato alle 5 di questa mattina e domato solo dopo alcune ore. Tra i sette componenti della famiglia i vigili del fuoco hanno salvato anche tre bambini. A fare divampare l'incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati alcuni ceri votivi accesi dal figlio che vive al primo piano. I agenti di polizia subito intervenuti hanno evitato che la famiglia al secondo piano presa dal panico tentasse di salvarsi lanciandosi, pensate, dal balcone. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, poi vi parleremo dell'operazione che ha bloccato un traffico illecito di rifiuti nel Messinese. Questa è con noi. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza in manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, la sicurezza dei tuoi beni più cari. Safir. Il profumo della terra di Salemi. I sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana. La freschezza dei prodotti utilizzati. L'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti. Sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante, le botteghe del sindaco. A Salemi, in via Giovanni Amendola 187. Telefono 0924 64 921. Cosa serve per far crescere la Sicilia? Serve che regione e comuni funzionino. E per farli funzionare serve che la classe dirigente partecipi all'attività di queste istituzioni e le controlli. perché ciò accada, serve un'informazione investigativa, completa, coraggiosa. Per questo c'è QDS.it, quotidiano di Sicilia, la voce della classe dirigente siciliana contro l'inefficienza della burocrazia. Abbonati, serve anche il tuo impegno per far crescere la Sicilia. Bentornati in studio. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere le otto persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Last Orange sul traffico illecito di rifiuti nelle messinesi. Interrogatori di garanzia dunque finiti nel silenzio. I dettagli. Si sono avvalse della facoltà di non rispondere alle domande del GIP del Tribunale di Messina le otto persone coinvolte nell'operazione Last Orange scattata all'alba di giovedì scorso tra i comuni di Barcellona Pozzo di Cotto, Mazzara Sant'Andrea, Castro Reale, Terme Vigliatore, Lentini e Napoli. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia hanno quindi seguito le indicazioni degli avvocati difensori. Senza rispondere alle contestazioni del giudice, le tre persone raggiunte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nunzio Calabro, 73 anni, rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della Candy Fruit Spa. Sebastiano Conti Mamma Mica, 47 anni, imprenditore di Militello Rosmarino e Antonio Mazzeo, 47 anni di Terme Vigliatore, gestore della ditta Transporti Line, detenuto al 41 bis a seguito dell'operazione Gota 4. Analoga scelta adottata dagli autotrasportatori Giuseppe Triolo, Fortunato Arcoraci, Salvatore Crinò, Giovanni Floramo e Mario Pantè, che sono stati sottoposti, il primo all'obbligo di dimora a Barcellona e gli altri quattro a quella della presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti i destinatari del provvedimento cautelare, l'accusa è di avere in concorso tra di loro, gestito abusivamente ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti provenienti dalla trasformazione industriale degli agrumi, il cosiddetto pastazzo da grumi e polpa, traendone un ingiusto profitto quantificato in circa 2 milioni di euro. Messina arrestiamo, aggredisce alcuni medici e paramedici al pronto soccorso del Policlinico Universitario di Messina, danneggiando una barella e una sedia a rotelle. Per questo, Rosario Aloisi, 33 anni, è stato arrestato e dovrà rispondere di oltraggio, violenza, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e di interruzione di pubblico servizio. L'uomo, giunto in ambulanza al pronto soccorso in seguito ad un incidente domestico verosimilmente ubriaco, ha improvvisamente perso il controllo, aggredendo verbalmente medici e paramedici e rifiutando ogni tipo di cura. Poi si è scagliato contro una barella e una sedia a rotelle, distruggendole. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che sono riusciti a bloccarlo, non senza difficoltà, dopo essere stati prima insultati e minacciati dallo stesso Rosario Aloisi. Ci portiamo ad Agrigento, dove è vera e propria rivoluzione antimafia nella sede di Confindustria per l'adozione del codice etico. La sede guidata da Giuseppe Catanzaro è infatti una delle prime in Italia a dare vita a una vera e propria rivoluzione antimafia. Sentiamo. Protagonista del codice etico elaborato da Confindustria, la sezione di Agrigento guidata da Giuseppe Catanzaro, oggi vicepresidente regionale, è stata tra le prime in Sicilia a dare il via la rivoluzione culturale antimafia degli imprenditori. A distanza di diversi anni il bilancio è più che positivo. Diversi quelli che hanno denunciato gli estorsori, alcuni oggi sono testimoni chiave dell'accusa in importanti processi, come il nuova cupola in corso di svolgimento davanti alla Corte d'Assisi di Agrigento. Una battaglia anti-racket che adesso si arricchisce di nuovi strumenti, come il Desk Imprese. Si tratta di un'iniziativa elaborata da Confindustria Centro Sicilia, di cui fanno parte le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, che prevede non solo di fornire assistenza sul piano legale, economico, finanziario e gestionale, ma anche socio-psicologico agli imprenditori che scelgono di dire no al racket del pizza e dell'usura. Il Desk Imprese è stato attivato nell'ambito del progetto Caltanissetta e Caserta Sicure e Moderne, grazie ai fondi Ponne Sicurezza, promosso dal commissario anti-racket e anti-usura, in collaborazione con Confindustria. Il progetto ha l'obiettivo di implementare una concretazione di sostegno alla legalità e alla trasferenza nelle regioni Sicilia e Campania, per accrescere la consapevolezza della cultura delle regole e affiancare le imprese nel percorso di denunce e contrasto dei fenomeni criminali, in particolare del racket e dell'estorsione e dell'usura, che effliggono i due territori. Il personale del Desk Imprese di Confindustria Centro Sicilia è preparato per dare supporto informativo ed operativo agli associati, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di alcuni importanti strumenti che possono garantire maggiori livelli di sicurezza e affidabilità nell'agire economico, tra i quali l'adesione ai protocolli di legalità, l'iscrizione nelle white liste prefettizie, l'adozione di codici etici e di modelle organizzative e rating di legalità. Gli operatori del Desk saranno al fianco delle imprese per fornire informazioni, ascolto e assistenza in tutte le fasi preliminare alla denuncia per aiutare a cogliere le opportunità derivanti dall'adozione di una vera e propria strategia di legalità. Proseguiamo, è morto a Palermo all'età di 65 anni l'ex deputato regionale di Alleanza Nazionale Guido Virzi, figura storica della destra palermitana e siciliana, aveva cominciato giovanissimo l'attività politica, militando nel fronte della gioventù, organizzazione del Movimento Sociale Italiano. Esprimo il mio cordoglio a quello dell'intera amministrazione comunale, ha detto il sindaco di Palermo, Luca Orlando, per la scomparsa di Guido Virzi, la cui caustica intelligenza ha dato un contributo, ancora oggi assai raro, alla politica della città e quella della regione siciliana. Un calvario senza fine, quello scaturito dal maxiconcorso scuola indetto, pensata nel 2012, consumatosi oltre un anno fa, ma ancora senza risultati. In Sicilia una delle situazioni più critiche d'Italia, come i docenti precari appesi letteralmente ad un filo, specialmente dopo la rinuncia dei commissari incaricati allo scrutinio. Sentiamo. Il concorso Beffa, in un'incredibile inversione della realtà, rischia di tramutarsi in un assoluto danno incalcolabile per i oltre 8.000 prof italiani in attesa di cattedra. I commissari di Sicilia, Toscana, Lazio e Basilicata, che avrebbero dovuto concludere il ciclo di valutazioni per il maxiconcorso indetto addirittura nel 2012, hanno infatti gettato la spugna. Motivo sarebbe l'esiguo pagamento di questo lavoro extra, pagato dalle Ministero appena 200 euro più un rimborso di 50 centesimi lordi per ogni scritto corretto, il tutto come rilanciato dall'ANIEF, il sindacato di categoria, senza nemmeno aver diritto all'esonero dall'insegnamento. Un'ulteriore conferma, secondo l'Associazione, della totale inadeguatezza del MIUR in termini di reclutamento del personale. Un calvario in piena regola, quello dei docenti precari, che già dallo scorso 31 agosto avrebbero dovuto ricevere i risultati di quel megaconcorso al quale parteciparono oltre 320.000 persone in tutta Italia. Allora fu possibile estilare le graduatorie solo per il 27% dei concorrenti, con la restante parte in attesa di conoscere il proprio futuro. Un futuro che presto potrebbe dissolversi prima ancora che lo si conosca per davvero. Secondo normativa, infatti, alla proclamazione di un nuovo bando, che come più volte annunciato potrebbe paventarsi nel 2015, tutti i vincitori non immessi del bando precedente automaticamente andrebbero a decadere. Un'eventualità che lascerebbe i giovani docenti non solo con oltre due anni di inattività, ma riportandoli indietro sino al 2012, con tutte le angosciose criticità che ne conseguirebbero. È davvero avvilente, ha commentato a Marcello Pacifico, presidente Anief, tornare a commentare un concorso caschiano, bandito dopo oltre dieci anni dal precedente, che continua a lasciare i vincitori per strada. Il più classico concorso all'italiana, dove, conclude Pacifico, il merito e i sacrifici dei partecipanti vengono sepolti dalla burocrazia più inetta. E se come abbiamo appreso dunque manca ancora la graduatoria per quanto riguarda il maxiconcorso scuola, un'altra graduatoria, quella inerente ai finanziamenti per le strutture recettive siciliane invece, è finalmente arrivata. 30 milioni di euro sono in arrivo appunto per le strutture alberghiere siciliane. Si tratta di fondi europei che andranno a 159 imprese di tutta l'isola. La graduatoria, attesa da più di due anni, è stata pubblicata sul sito ufficiale della regione siciliana. Sentiamo. Dopo oltre due anni di attesa è finalmente arrivata la graduatoria, stirata dall'assessorato regionale al territorio ambiente, relativa ai finanziamenti che riguardano interventi di riqualificazione e riconversione di alberghi, motel, campeggio e bed and breakfast siciliani. Si tratta di 30 milioni di euro provenienti da fondi europei, ripartiti tra 159 imprese di tutta l'isola, che hanno ottenuto finanziamenti che vanno dai 50 ai 200 mila euro. La graduatoria approvata lo scorso 11 aprile può essere consultata direttamente sul sito della regione siciliana. Per gli operatori del settore che avevano presentato la richiesta di finanziamento ma sono rimasti a mani vuote, sarà possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni. Alla scadenza del termine poi saranno valutati tutti i ricorsi e in base alle decisioni del TAR sui singoli casi verrà stilata la graduatoria definitiva. Un processo dunque non ancora giunto al termine, dopo più di due anni di travaglio, ma che almeno adesso vede la luce in fondo al tunnel. Le lungaggini legate ai tempi burocratici che hanno rallentato la pubblicazione della graduatoria però nel frattempo hanno soffocato un settore in forte crisi, quello del turismo, che dovrebbe essere punto di forza e volano dell'economia siciliana. Tantissimi nel corso di questi due anni interminabili, gli operatori del settore costretti a chiudere a causa delle ristrettezze economiche dovute alla crisi, mentre attendevano gli esiti dell'iter passato da procedure compassate, rinvii e modifiche in sena alla commissione di valutazione. Una situazione purtroppo tristemente nota, che evidenzia le enormi difficoltà nell'attribuzione dei fondi europei in Sicilia, nonostante le sofferenze delle casse regionali, che dovrebbero spingere la regione a velocizzare lo sblocco dei fondi comunitari nel minor tempo possibile, soprattutto per i settori strategici come il turismo. Parliamo adesso della Pasqua appena trascorsa una festività all'insegna del calo dei consumi, che hanno registrato un passivo pensato del 13,8%. È andata meglio in Sicilia per quanto riguarda il turismo, che ha registrato invece un forte aumento di presenze sull'isola. Nonostante i pranzi, le uova di cioccolato e le colombe, i consumi per Pasqua hanno registrato una caduta del 13,8%. È quanto sostiene una nota di Adus, Beffe e Feder Consumatori, firmata dai presidenti Elio Lannutti e Rosario Trefiletti. Il campione degli intervistati ha infatti confermato dati molto negativi, che ribadiscono il forte condizionamento che la situazione economica del paese ha sulle famiglie. La riduzione dei consumi, prosegue la nota, ha registrato una caduta del 13,8% in generale, con valori che oscillano da un meno 8% per le carni ovine. Drammaticamente calano uove e colombe con un meno 21,5% rispetto ai dati del 2013. Anche per lo stesso consumo turistico si conferma che soltanto il 7,5% delle famiglie si è mossa nel periodo di Pasqua e Pasquetta, pari a 1,8 milioni di famiglie. Nella nostra regione, a Palermo in particolare, si è registrata invece una discreta presenza di turisti, soprattutto di spagnoli, inglesi e francesi. A favorire le presenze, la concomitanza, probabilmente in prossimità della Pasqua, degli altri due ponti, quello del 25 aprile e del 1 maggio. Stando agli ultimi dati forniti dalla GESAP, la società di gestione dell'aeroporto Falcone e Borsellino, a Pasqua hanno transitato a Punta Raisi il 35% di passeggeri in più rispetto all'anno scorso e il 25% di aerei in più toccheranno invece in questi giorni di vacanza lo scalo palermitano. Ma registrare un vero e proprio boom di presenze, complice il bel tempo di questi giorni, è stato l'arcipelago delle isole eolie, dove tra Pasqua e Pasquetta sono sbarcati circa 7.000 turisti. Tra le isole più gettonate, oltre a Lipari, vi è sempre Stromboli, che ormai per l'attrazione del vulcano, sempre in attività, richiama vacanzieri in ogni stagione dell'anno per la gioia degli operatori. Numeri dunque che non sono da pienone, ma che dopo la crisi del settore e l'andamento negativo dei primi mesi del 2014, hanno riportato un po' di fiducia tra gli operatori turistici. È stata anche una Pasqua di controlli da parte della Polizia che ha coinvolto pub venditori ambulanti del centro cittadino. Ovviamente palermitano, le forze dell'ordine hanno passato dal setaccio il centro storico, multando un locale nei pressi della Champagneria per 5.000 euro per la violazione delle prescrizioni relative all'attività di intrattenimento musicale. L'attività di monitoraggio ha portato inoltre all'identificazione di alcuni ambulanti per la violazione delle ordinanze sindacali sulla vendita itinerante, nonché la loro sanzione per un importo complessivo di 1.200 euro. Si tratta del piano di controllo ideato in prossimità delle festività pasquali, periodo in cui, come abbiamo tra l'altro anche appreso, aumenta l'affluenza dei turisti. Il questore ha predisposto a alcune attività mirate, con lo scopo di contrastare l'abusivismo e la violazione delle prescrizioni relative ai locali e all'intrattenimento. Così, il centro storico è stato battuto palmo a palmo da polizia e vigili urbani, le zone comprese tra Piazza Verdi, Meta Ambita, dai venditori ambulanti e i pub tra Piazza Mangione, Vuciria e via Spinuzze. Prendiamo adesso di maltempo. Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore l'Italia, portando piogge temporali prima su Sardegna e Sicilia e successivamente sulle restanti regioni meridionali e su parte di quelle centrali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque messo un allertamento che prevede già dal pomeriggio di oggi, temporali localmente anche molto intensi, accompagnati da fulmine, forti, raffiche di vento, prima sulla Sardegna e poi, come detto, sulla nostra isola. A partire dalla serata la perturbazione si sposterà sulle altre regioni. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, restate con noi. Tantillo Colori di Tantillo Salvatore, leader da 40 anni nel mondo del colore, vi dà il benvenuto nel suo showroom. Ed ecco le interessantissime offerte riservate ai nostri clienti. Caldaia Ferroli Divatec, kilowatt 24, 489 euro. Scaldabagno 80 litri di unboiler, 79 euro. Scaldasalviette bianco, altezza 80 centimetri, 44 euro e 90. Una latta di lavabile, più rullo, tela, retina e pennello, euro 29,90. Radiatore fresso flusso in alluminio, 9 euro. Sei tubi di silicone Bostik, 9 euro e 90. Stucco 20 kg, 8 euro e 50. Un cotone delle migliori marche, 44 euro e 50. Ogni 5 latte di pittura, 3 latte di stucco o fissativo in omaggio. Tantillo Colori a Palermo, via Mendola 35, zona stazione centrale. Qualità ed esperienza al vostro servizio. Comunica. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Rieccoci anche quest'anno. San Vito Lo Capo inaugurerà la stagione turistica con il Festival Internazionale degli Aquiloni, dal titolo Emozioni a naso in su. Giunto alla sua sesta edizione. Dalle 21 alle 25 maggio, spettacolari e coloratissimi aquiloni voleranno nel cielo, sopra la rinomata meta balneare. Sentiamo. Dopo il grande successo dell'ultima edizione svolta a novembre scorso, torna il Festival Internazionale degli Aquiloni, che si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 21 al 25 maggio. Una cinque giorni che prevede un ricco programma di eventi, tra i quali laboratori di costruzione di aquiloni, voli notturni con aquiloni pirotecnici ed inoltre spettacoli musicali e di intrattenimento. Il filo conduttore di questa edizione sarà «Gli Aquiloni volano e dicono no alla violenza sulle donne e dalla violenza di ogni genere», con la partecipazione delle associazioni di categoria che interagiranno direttamente con conferenze e dibattiti sul tema. La sesta edizione è organizzata dalla neonata Società Sotto e Sopra SRL, che conterà sulla consulenza artistica ed organizzativa della Trapani Eventi e dell'Associazione Culturale Sensi Creativi, già organizzatori delle cinque precedenti edizioni e con il patricinio del Comune di San Vitolo Capo. Siamo in chiusura, come sempre, in appunto fine del nostro OTG. Vi lasciamo a una breve rassegna di tutte le ultimissime notizie in arrivo dall'Italia e dal mondo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Approderà alle 15 nell'Aula della Camera il decreto lavoro sul quale il Governo sembra orientato a porre la questione di fiducia, maggioranza in fibrillazione sul pacchetto di modifiche all'apprendistato e sul numero di proroghe possibili ai contratti a termine. La riforma Poletti creerà più occupazione, lo prevede il Ministro dell'Economia Padoa, che poi difende l'operazione degli 80 euro in busta paga. Siamo in campagna elettorale, commenta il titolare di Via 20 Settembre, e chi non è al Governo spara sul Governo. Oltre un milione di famiglie senza reddito da lavoro, lo denuncia l'Istat pubblicando i dati relativi al 2013. Solo un anno fa erano il 18% in meno, mentre nel confronto con due anni prima l'aumento supera il 50%. Al via Kiev l'incontro tra il vicepresidente degli Stati Uniti Biden in missione in Ucraina il presidente ad interim, Turchinov, poi faccia a faccia con il premier Yatsenyuk. Mosca intanto accusa il governo ucraino di violare gli accordi di Ginevra sulla prevenzione delle violenze. Il 3 giugno le presidenziali in Siria. La data è stata ufficializzata dalle autorità di Damasco. Assad punta un nuovo mandato nonostante i tre anni di guerra civile. Sarà una farsa, commenta il leader dell'opposizione Jarba. Gli Stati Uniti, parodia della democrazia, condanna anche da ONU e Unione Europea. È stata una frana di circa 20.000 metri cubi dal monte di La Saxa a causare la scorsa notte la chiusura di due ore del traforo del Monte Bianco. È lo smottamento più imponente dall'inizio dell'emergenza a Courmayeur l'8 aprile che ha determinato lo sgombero del villaggio di La Palouse, stamane e sopralluogo del capo della protezione civile Gabrielli. Oggi si celebra in 190 paesi del mondo la giornata della Terra, giunta alla 44esima edizione e incentrata sulla conservazione delle risorse naturali. Su decisione dell'ONU l'Earth Day di quest'anno è dedicata alle Green City che puntano su energie rinnovabili, tecniche innovative di riciclaggio, piani d'azione contro i mutamenti climatici. Grazie a tutti.